purtroppo se dobbiamo tenere un comportamento evitare assemblamenti dobbiamo restringere le misure di libertà se così le possiamo chiamare tra queste c'è stato anche quello della chiusura l'ordinanza di chiusura l'accesso alle persone per far visita ai cimiteri e allora ieri proprio per dire che siamo sempre veramente attivi e ringrazio anche i collaboratori che anche di domenica si prestano a lavorare ho firmato un'ordinanza che un'ordinanza di autorizzazione ingresso ai cimiteri limitatamente alle ditte florovaistiche al dettaglio e dai fiorai e connesse attività di trasporto cosa significa questo che consentiamo ai fiorai di poter accedere all'interno dei cimiteri su mandato delle persone che vogliono portare un fiore nella tomba dei propri cari magari perché ormai sono tre settimane che non possono far visita magari anche gli addobbi che avevano portato non sono più adeguati quindi possono attraverso prenotazione con i propri fiorai e loro si possono portarli fisicamente all'interno dei cimiteri siamo in una fase siamo entrati nella settimana pasquale e quindi chiediamo questo sacrificio che sotto certo aspetto di un sacrificio spirituale ma noi sappiamo cosa vuol dire quando non sia più una persona cara allora abbiamo pensato in questo momento dove siamo tutti costretti a rimanere a casa e rinnovo l'invito non invito non voglio usare la parola ordine che non mi piace ma dobbiamo rimanere a casa per non sciupare tutto il lavoro fatto fino ad oggi allora ecco queste misure possono così in qualche modo aiutare anche quelli che sono i sentimenti nei confronti delle persone care grazie 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 grazie